questo trigger è molto soft ci aiuterà a placare il tuo nervosismo il tuo nervosismo il tuo nervosismo il tuo nervosismo ciao come stai? forse se sei qui è perchè sei arrabbiato e non riesci a dormire ma tranquillo ora ti aiuto a far passare la rabbia e a farti rilassare per farti tormentare questo trigger è molto soft ci aiuterà a placare il tuo nervosismo cominciamo concentrati segni agli occhi guardami e ora facciamo insieme dei respiri lenti e profondi guardami guardami se vuoi il mio ritmo se vuoi il mio ritmo se vuoi il mio ritmo se vuoi il tuo corpo che sia a rilassarti piano piano respiro dopo respiro spiro 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 va un pochino meglio adesso spiro continuiamo il nostro relax ti chiedo di continuare col terme negli occhi anche se è bassa al più o meno davanti, tu guarda bene, concentrati su di me, il mio obiettivo adesso è rilassare per consigliare il sonno e anche se è rilassare per consigliare il sonno continuo a respirare lentamente proprio davanti e anche se è rilassare il sonno è rilassare 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 Sì, sì. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Concludiamo questa sessione tranquillizzante col suono delle onde e del mare. Good luck. 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 Good luck.